Sono circa 30 i positivi al coronavirus sul territorio del comune di Teramo. La maggior parte è in isolamento domiciliare. Il sindaco di Teramo, Gianguido D'Alberto, ha definito la situazione non allarmante, ma raccomanda attenzione. Sì, questi sono i dati che ci pervengono dalla ASL. Siamo decisamente lontani dalla situazione di marzo-aprile, numeri alla mano, ma l'evoluzione così rapida di questi giorni ci impone assolutamente la massima attenzione, il rispetto delle regole, perché non possiamo correre il rischio di tornare indietro. Possiamo ancora arginare il fenomeno rispettando le regole. Siamo in attesa dell'emanazione del DPCM, che ovviamente introdurrà delle misure restrittive e ben vengano, soprattutto perché devono avere un carattere uniforme su tutto il territorio. è la stessa cosa che stiamo chiedendo alla Regione Abruzzo, cioè di dare delle risposte uniformi, perché il fatto che ci siano singoli territori che adottano delle ordinanze legate a situazioni specifiche può risultare inefficace, inadeguata come misura, ma creare anche incertezze nei cittadini. Sindaco, l'età media dei contagiati si è abbassata molto? Si è abbassata e questo è un elemento di criticità, che ovviamente rende più complesso e difficile tracciare i contatti stretti e questo mi ha portato anche a rivolgere un appello ai nostri ragazzi più giovani che nelle scuole rispettano pienamente le regole, le misure, grazie al supporto delle docenti, delle dirigenti scolastiche, ma al di fuori della scuola continuiamo a registrare dei comportamenti che non sono accettabili, non sono comprensibili, tant'è che sono intervenuto anche personalmente al di fuori di alcuni plessi scolastici o nelle piazze della città per richiamare tutti a rispetto delle regole di indossare le mascherine. Ciascuna persona, ovviamente, ciascun cittadino deve sentirsi responsabile della propria salute e di quella di chi ci circonda e mi rivolgo soprattutto ai ragazzi perché sono loro i principali protagonisti di questo momento, i principali interessati a che la situazione non ci porti a tornare indietro, perché si discute del loro futuro, si discute della continuità dell'attività scolastica, si discute della continuità della formazione di ciascuno di loro. Un richiamo al buon senso, alla consapevolezza e alla responsabilità da parte di tutti perché non esiste una norma, non esiste una regola, non esiste un controllo che può essere efficace fino in fondo, anche effettuato con misure sanzionatorie. In questo momento, se non è accompagnato dal buon senso, dalla responsabilità, dal senso di appartenenza ad una comunità la cui salute va tutelata a 360 gradi ogni giorno da parte di ciascuno di noi.